... che sta filando davanti a noi e davanti agli unici Md3-9 con le frecce tricolori. Salutiamo il pilota dell'F35 e ringraziamolo per questo splendido display che ci ha regalato per celebrare i 60 anni delle frecce tricolori qui sulla... ... 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